Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Alfonso Signorini ha commentato la fine della love, story tra Francesco Totti e Hilary Blasi, in modo inaspettato Alfonso Signorini sta tornando. Mancano infatti poche settimane al debutto della settima edizione del GF VIP con grande trepidazione di molti appassionati del reality show Ci sono ancora dettagli da ultimare ma ormai ci siamo e il conduttore, in una delle sue molteplici dichiarazioni, assicura che ci sono dei veri e propri assi nella manica top secret Nonostante i diversi impegni professionali, come personaggio televisivo, al conduttore però non è passato inosservato il gossip dell'estate, ovvero la separazione tra Francesco e Hilary, essendo lui un luminare del pettegolezzo, in qualità di direttore della rivista più scandalistica d'Italia, che Perciò, ha deciso di esprimere una propria opinione in merito Alfonso Signorini e la frecciatina la Blasi.L' amicizia tra i due colleghi è ben fondata, resa ancora più frizzante da momenti scherzosi e ironici Si rammenti, ad esempio, l'ingresso in studio di Hilary, durante la finale del grande fratello VIP, poco prima che cominciasse l'isola, simbolicamente come passaggio di testimone Proprio in quel periodo sono cominciati i primi rumors sulla rottura tra lei e l'ex capitano della Roma e nel mentre di quella serata, Alfonso non si è tirato indietro al fine di diporle alcune domande, dettate dalla curiosità Una frazione di secondo che subitaneamente è svanito, parlando d'altro Ma oggi il re del gossip ha deciso di parlare e commentare così quanto finora accaduto alla coppia più amata dal pubblico, nelle ultime settimane Nessuno si sarebbe mai atteso una constatazione simile di fatti ecco quali sono state le sue pungenti parole Sono una coppia meravigliosa. Alfonso Signorini ha concesso un'intervista a Simona Ventura, durante l'evento La terrazza della dolce vita a Rimini In questo frangente, ha espresso il proprio parere su quanto sta succedendo in casa Totti, Blasi ma da un punto di vista diverso, più sprezzante, se il mondo della carta stampata va a concludersi? Ma no, vive sempre di nuova linfa E tu pensa che l'infa hanno dato Francesco Totti e Ilari Blasi quest'estate? Quella è una coppia meravigliosa, meno male che ci sono. Naturalmente, un'asserzione di facile interpretazione è interessante poiché rappresenta lo sguardo di chi lavora nel settore nonostante, sovente, sia una professione denigrata proprio per la tematica ricercata Ma come lui stesso ha giustamente osservato il gossip non si esaurisce poiché rimarrà sempre la punta di diamante del nostro costume e società Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il 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 video